Tra i dispositivi da 6 pollici molto interessanti attualmente, sicuramente due tra questi possono essere il Huawei Mate 8 e il Nubia Z11 Max. Entrambi le case sono cinesi, il Mate viene venduto nel mercato internazionale nella versione da 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna. Esiste anche una versione da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna o 128 GB di memoria interna, ma vengono vendute solamente per i mercati orientali. Attualmente il prezzo si aggira intorno a 400€, io l'ho acquistato su Amazon, in questa colorazione silver. Probabilmente è attualmente ancora il miglior 6 pollici prima dell'uscita a novembre del suo successore, il Mate 9. Da quest'altra parte invece abbiamo un dispositivo più giovane, il Mate infatti è stato presentato a fin 2015, mi è arrivato nei nostri mercati solamente nei primi mesi del 2016. Il Nubia Z11 Max, della casa cinese Nubia, che è una spin-off di ZTE, o meglio è la spin-off di lusso della ZTE, si è affacciata quest'anno anche nei nostri mercati, presentando lo Z11 top di gamma, con schermo e DGE, quindi senza bordi, e il Z11 Mini. Lo Z11 Max, dispositivo da 6 pollici, uscirà nel nostro mercato intorno a novembre, o meglio le vendite dovrebbero partire intorno a novembre, ma a differenza delle due versioni precedenti non presenta ancora la banda 20 per l'LTE. Io l'ho acquistato da Spemol, quindi mercati esterni, ad un prezzo intorno a 300 dollari. Nella versione top, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna, in quanto esiste anche una versione con un processore differente, Mediatek e non Qualcomm, come questa versione top, è con 3 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna. Come vediamo i dispositivi hanno una stessa struttura, che è in metallo nella parte posteriore e vetro nella parte anteriore. Sono però leggermente differenti, in quanto nella parte posteriore il Mate ha un metallo che al tatto sembra più solido e robusto rispetto al Nubia, che sembra leggermente più giocattoloso. Non che non sia realizzato in ottimo metallo, ma l'effetto di robustezza, di qualità premium e maggiore nel Mate rispetto al Nubia. Nella parte posteriore abbiamo per il Mate la fotocamera principale, il lettore di impronte digitali per lo sblocco del dispositivo, il doppio flash LED a doppia tonalità e la scritta Huawei. Il Nubia si presenta con la fotocamera circondata da questa ghiera rossa, doppio flash LED a doppia tonalità e il lettore di impronte digitali. E sotto la scritta Nubia. Nella parte in alto abbiamo per il Nubia il secondo microfono per la suppressione dei rumori e il jack audio, così come per il Mate il secondo microfono per la suppressione dei rumori e il jack audio. In basso si ha una prima differenza tra i due dispositivi, entrambi presentano la cassa audio mono nella parte in basso e il microfono principale pure in basso. Ma mentre il Mate con queste caratteristiche video a vista si presenta con la classica porta micro USB, il Nubia si presenta con la porta USB di tipo Type-C. Nella parte sinistra entrambi hanno lo sportellino per rimuovere le due sim, entrambi in formato nano, o una sim e una micro SD per l'espansione della memoria interna in entrambi i casi. Sono tutti o due dual sim, dual standby, full active però per il Mate, un normale dual standby per il Nubia. Questo significa che nel caso del Mate, se siamo impegnati in una conversazione con una sim, l'altra sim risulterà attiva. Con il Nubia l'altra sim invece risulterà occupata se siamo impegnati in una conversazione telefonica. Nella parte invece di destra abbiamo il bilangere del volume e il tasto di accensione per entrambi i dispositivi, leggermente traballanti per il Nubia, più solidi invece per quanto riguarda il Mate. Il Mate presenta inoltre il tasto di accensione differenziato rispetto al bilangere del volume in quanto è zigrinato e quindi lo si riconosce subito al tatto, a differenza invece del Nubia che non presenta questa caratteristica. Inoltre il Nubia ha un effetto ad arco bombato lungo tutta la cornice. Questa curvatura la si osserva sia nella parte anteriore, quindi il vetro è 2.5D, leggermente 2.5D, sia nella parte posteriore. Questo ne facilita la presa anche perché il dispositivo è spesso solamente 7.4 mm. Mentre il Mate presenta una cornice sempre in metallo come il Nubia, non ha un effetto liscio e non è bombata, ma è leggermente zigrinata, la presa è piuttosto salda e nella parte posteriore tende ad avere una sorta di bombatura con uno spessore più elevato nella parte centrale dove si arriva a 7.7 mm per poi ridursi leggermente nelle parti laterali più in corrispondenza dei bordi. Anche in questo caso la presa è piuttosto salda, anche perché lo spessore massimo è 7.7 mm. Entrambi i dispositivi pesano 185 grammi, ma essendo realizzati in metallo comunque con mani sudate l'effetto saponetta ovviamente è piuttosto evidente, quindi i due dispositivi tendono a scivolare facilmente da mano. Per quanto riguarda le confezioni di acquisto sono leggermente differenti, più ricca quella del Mate 8, meno ricca quella del Nubia, anche se non so se ovviamente quando verrà presentato per il mercato italiano il Nubia presenterà qualche accessorio in più, così come la versione Top Z11 o lo Z11 Mini. Nel caso del Mate troviamo quindi all'interno della confezione il dispositivo che viene venduto già con pellicola preapplicata, che però ho rimosso installando una pellicola in vetro. Troviamo poi uno scatolino dove è presente il PIM per rimuovere le SIM. All'interno di questo scatolino troviamo la manualistica, la garanzia in questa comoda scatoletta, e questa cover in plastica dura, non in silicone. Non la utilizzo perché essendo plastica dura ho paura che quando viene tolto il telefono da questa stessa cover, che è piuttosto difficile da togliere, c'è il rischio che si possa leggermente graffiare. Comunque è comunque una cosa positiva che il Mate presenta comunque questa confezione. Ricordo che avrei preferito comunque una flip cover come viene venduta per le versioni per i mercati orientali e come viene venduto per il Mate S. Nel Mate S infatti c'era una flip cover sicuramente più elegante rispetto a questa cover in plastica. Comunque all'interno della confezione del Mate troviamo poi carica batterie con funzione di ricarica rapida, 5V 2A e infine troviamo in quest'altra scatolina il cavo micro USB per la ricarica e lo scambio di dati con il PC e le cuffie con doppia uscita stile Apple di buona qualità. Conversione invece più scarna per quanto riguarda il Nubia, dove troviamo solamente la dotazione essenziale, come i dispositivi di tipo Xiaomi o tipo Mainzone. Abbiamo questa ghiera rossa particolare che contraddistingue il telefono, così come rossa è la ghiera che si trova in pratica attorno alla fotocamera e così come questo cerchio rosso lo troviamo in corrispondenza del tasto Home. Ora ti ricordo che nella parte frontale il Mate non ha i tasti sulla cornice ma ce li ha a schermo, il Nubia invece i tasti li presenta sulla cornice in basso con il tasto centrale che funge anche da LED di notifica. La confezione del Nubia presenta l'adattatore per le prese europee, un opuscolo all'interno del quale troviamo il pin per rimuovere le SIM, lo stemma Nubia e poi al suo interno troviamo solamente il cavo USB USB Type-C, l'adattatore per i normali cavi micro USB USB Type-C, in maniera tale da utilizzare anche altri cavetti in nostro possesso, e il caricabatterie con plug americano, ovviamente presente all'adattatore, che sopporta la ricarica rapida, in particolare è da 5V 3A, 9V 2A e 12V 1A e mezzo. Quindi in teoria la ricarica dovrebbe essere più rapida rispetto a quella del MET. Ricordo che entrambi i dispositivi presentano batterie non removibili da 4000 mAh. Accendiamo i due dispositivi e vediamo chi si accende per primo, e poi analizziamo in pratica le app presenti nell'uno e nell'altro, così come ci vengono venduti. Come vediamo si è acceso prima il Nubia, subito dopo si arriva invece il MET. Spengo un attimo i due schermi, perché vi voglio mostrare questa caratteristica. Allora, mentre il MET presenta le cornici in basso e in alto che sono piuttosto ridotte, è un ottimo 6 pollici, forse è il migliore come ottimizzazione degli spazi, ma i tasti sono a schermo, non sono posizionati sulla cornice. Il Nubia presenta invece due cornici più vaste nella parte superiore e inferiore, anche perché in basso presenta i tasti, due puntini che fungono dal tasto BEC e dal tasto MENU, e il tasto HOME centrale con questa ghiera rossa che si illumina in fase di ricarico o la ricezione delle notifiche. La particolarità fra i due dispositivi è che, mentre il Nubia presenta in pratica il vetro fino lungo i bordi, quindi sembra quasi che i bordi siano inesistenti, invece il Nubia non ha questa caratteristica. Quindi le cornici, come vediamo, laterali attorno allo schermo, sono comunque ridotte, ma sono più evidenti rispetto al MET. Il MET sembra quasi che non abbia cornici laterali. Questo però è solamente un effetto ottico, perché una volta acceso il dispositivo, è sbloccato, mettiamo una pagina in bianco, vediamo ora che cosa succede. Nel caso del MET, come vediamo, oltre ai tasti a schermo, i due bordi in vetro laterali non sono completamente a schermo, ma è solamente, diciamo, il bordo nero, che come vediamo è piuttosto spesso, a differenza invece del Nubia, il cui bordo nero attorno allo schermo è più ridotto. Quindi, da spendo, l'effetto è più bello di visione nel MET rispetto al Nubia, ma una volta acceso è più bello lo schermo del Nubia per questi bordi neri particolarmente ridotti rispetto al bordo nero piuttosto vasto del MET. Detto questo, analizziamo le app presenti nei due dispositivi, quindi il MET ci esce così, quindi abbiamo in pratica per il nostro mercato, quindi a parte il widget del meteo, dell'album e della suoneria, abbiamo tutte le applicazioni di Google in questa cartella. Poi, ovviamente, come la maggior parte dei dispositivi cinesi, non esiste l'app drawer, ma tutti i widget e le applicazioni sono presenti sulla schermata home. In pratica, il MET presenta come app preinstallate la cartella temi, gestione telefono per gestire, per ottimizzare il sistema, per la gestione del traffico, il filtro molestie, la batteria, il centro delle notifiche, il drop zone e il blocco delle app. Poi è presente iCare, che è l'app in pratica per mettersi in contatto con la casa madre, per avere l'abbonamento VIP, per visualizzare a che punto sta la riparazione del telefono, se lo mandiamo in riparazione, eccetera. Poi c'è l'app Benessere, che in pratica monitora il numero dei passi che effettuiamo. Poi è presente una cartella strumenti all'interno del quale abbiamo la gestione file, il meteo, blocco note, registratore, la radio FM, la torcia, lo specchio, in pratica, se ci si soffia sul microfono, lo specchio, in pratica, vediamo un po'. Soffiando sullo schermo, sul microfono si ha questo particolare effetto simpatico di appannamento dello stesso, sempre nella cartella strumenti, abbiamo poi la bussola, l'app per effettuare il backup, il download, la gestione delle sim e possiamo aggiungere qualche altra applicazione a nostro piacimento. Poi abbiamo app più popolari, dove abbiamo WPS Office per la gestione dei pacchetti Office, Facebook, Twitter e Todoist per gestire, diciamo, quello che vogliamo fare. Poi abbiamo una cartella giochi, dove sono presenti sei giochi, o meglio, 50 giochi gratis, top games e quattro giochi, però in versione demo. E infine è presente l'app WMOL, che è il mercato e l'app dove poter acquistare i dispositivi mate o gli accessori. Per quanto riguarda invece il Nubia, ho installato un ROM. In particolare il Nubia ci arriva con ROM in lingua inglese o cinese, dato che non è ancora venduto ufficialmente per il nostro mercato. In particolare è presente come lingua di sistema anche l'italiano e Spemol lo forniva già quindi con lingue italiane, con Play Store installato e tutte le applicazioni cinesi rimosse. La differenza però sta nel fatto che chi non mastica bene l'inglese o comunque chi voleva il telefono completamente in italiano con la ROM ufficiale non si trova a proprio agio, in quanto molte scritte non sono tradotte ancora in italiano, la maggior parte delle scritte le troviamo ancora in inglese. Quindi, grazie ad un utente del forum androidiani, ho installato una mod, cioè una ROM, che si basa sulla ROM ufficiale fornita da Nubia, ma è completamente tradotta in italiano e inoltre presenta anche una novità. perché il mate ci viene fornito con la versione Emotion UI 4.0 e con Android 6.0. Io ho installato l'ultima build, la B192 che non è arrivata ancora via OTA, dovrebbe arrivare, in quanto l'ultima versione è la B180 per la versione L29, quindi quella dual sim per il mercato internazionale, l'ho installata quindi manualmente. Mentre invece il Nubia viene fornito con Android 5.1.1 e con la versione Nubia UI 3.9.9. Grazie all'utente Epesa del forum androidiano ho installato questa ROM semplicemente attraverso la recovery TVPR che va installata in maniera molto semplice e poi da questa ho installato questa mod, questa ROM rivisitata completamente tradotta in italiano, la quale però presenta anche una novità, perché andando su info dispositivo, informazione del telefono, la versione di Android rimane sempre la 5.1.1 come per la versione normale, ma la versione Nubia UI non è la 3.9.9 ma è la 4.0. Come vediamo in questo caso la ROM Combo ROM che è arrivata alla versione 3.7, completamente tradotta in italiano, quindi non ho nessun problema con le scritte, come vediamo sono tutte completamente in italiano a differenza della ROM ufficiale. E in più come ho detto presenta la versione dell'interfaccia che è la stessa presentata anche con il top di gamma Z11. In questo caso quindi, a parte le app cinesi che sono state completamente rimosse, l'utente Pesa ha, in pratica, se si è basato sulla ROM ufficiale, ha rimosso tutte le app in cinese, quindi è presente il Play Store, l'app di Google, è presente Outlook, poi troviamo i permessi di root grazie a Super Su, abbiamo l'app per ottimizzare il sistema, per bloccare lo schermo, per effettuare i gesti a bordo, lo Super Screenshot e nella cartella strumenti abbiamo l'app Notepad, calcolatrice, il registratore, la torcia, il backup, proiezione sullo schermo e aggiornamento software. Quindi, non troviamo le altre app di Google come YouTube o Gmail, troviamo poi l'app per i temi, per la musica e NeoSav, che, come in pratica gestione telefono del mete, ci consegna di effettuare una pulizia, di gestire i permessi all'avvio, la batteria, il flusso dei dati, il filtro molestie e un antifurto. Questi quindi sono i due dispositivi di provenienza cinese. Nei successivi video farò una comparazione per quanto riguarda l'aspetto hardware, le fotocamere e anche, in pratica, la potenza e quindi i vari benchmark. Sicuramente a livello estetico preferisco il mate, sia per la sensazione di robustezza e di solidità che mi offre maggiore rispetto al Nubia, sia anche per la qualità dell'alluminio che è sicuramente più di pregio rispetto al Nubia. In mano si tengono, diciamo, piuttosto difficilmente tutte e due, ma come vedremo dopo hanno una comoda gesture che permette di ridurre lo schermo anche se alla fine chi compra questi dispositivi difficilmente, diciamo, va a ridurre poi la schermata per utilizzare meglio il telefono.